Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 9 ottobre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti dal 25 al 37. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù E chi è il mio prossimo? Gesù risprese Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che li portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino e poi lo caricò sulla sua cavalcatura e lo portò in un alberbo, si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e gli diede all'albergatore dicendo Abbi cura di lui, ciò che spenderai di più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse va e anche tu fa così. Oggi la liturgia ci fa ascoltare la famosa parabola del buon samaritano, una parabola che nasce da una giustificazione. Così ci dice il testo che un dottore della legge apporta a una provocazione ancora precedente. Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù capisce bene che si tratta di una provocazione perché? Perché mette in condizione questo esperto in materia e pratica religiosa di arrivare a rispondere lui stesso quello che deve fare, amare Dio e il prossimo. Ecco allora che vanificata la provocazione il religioso studioso della Torah pone la domanda che ci trasmette il testo è proprio questo tentativo di giustificarsi davanti alla verità che lui stesso aveva appena pronunciato. Chi è il mio prossimo? Il fatto di giustificarsi davanti all'evidenza offre a Gesù l'occasione di regalarci questa meravigliosa parabola. Ecco innanzitutto Gesù non si adira di fronte a questo atteggiamento così irresponsabile di questo dottore della legge ma lo accoglie e con pazienza offre un esempio concreto che possa aprire una pista di riflessione su quello che lui ha chiesto. Chi è il mio prossimo? E anche come proprio del genere della parabola Gesù racconta proprio una parabola. Così come per la prima domanda che alla fine appunto porta lo stesso richiedente ad arrivare a una conclusione anche alla fine della parabola raccontata Gesù porta il suo ascoltatore a rispondere lui stesso alla domanda che gli viene posta in conclusione della parabola e la conclusione di Gesù è comunque sempre la stessa. Ci facciamo caso alla domanda cosa devo fare per avere la vita eterna conclude fa questo e vivrai. Alla domanda chi è il mio prossimo conclude va e anche tu fa lo stesso cioè rimanda alla responsabilità personale. Un particolare poi della parabola i personaggi protagonisti della parabola sono tutti riconoscibili appartenenti a classi sociali ben note nella cultura di Gesù un sacerdote che si occupava di gestire il culto al tempio un levita che era invece riconoscibile ecco come persona dedicata alle questioni del tempo le questioni religiose e un samaritano che invece era riconoscibile come straniero come eretico dai giudei. Questo vuol dire che amare Dio amare il prossimo unico amore in due direzioni consiste non in ragionamenti ma in fatti concreti e non si può concretizzare in specifiche appartenenze religiose o sociali perché perché l'amore di Dio e l'amore per Dio e per il prossimo è una questione di azione è una serie di azioni come quelle che compie il samaritano lo vide ne ebbe compassione poi lì si fece vicino lo curò se ne prese cura e quindi c'è qualcosa che si può fare per la vita eterna beh sì ecco il Vangelo ce l'annuncia fare atti di compassione compiere azioni che ci portano a farci vicino a chi ha bisogno anche noi oggi allora sentiamoci inviati a chi incontreremo oggi a compiere atti di compassione e preghiamo il Signore che ci liberi invece dall'irresponsabilità da tutte le nostre giustificazioni buona giornata